Hello ragazzi, salve a tutti, bentornati con questa nuova parte su Slime Rancher È passato un po' di tempo dalla scorsa volta Questo perché mi sono messo a lavorare un po' a tutta la farm A tutto il mio ranch Infatti ora posso dire di essere diventato un pro master dei ranch Un rancher Tipo un texano sono diventato In realtà non è vero, però sto iniziando a sfruttare delle meccaniche che il gioco offre Ovvero il fatto che se voi nutrite certi cosi con la cacca di slime rosa O comunque qualsiasi altro tipo di cacca diventano dei largo Quindi sono quelli grossi Difatti io ho messo la cacca di questi qua rosa insieme a questi qua tabbi Sono diventati dei tabbi largo E questi cosi prima mi mangiavano gli stone chicken Che sono quei polli con le strisce nere Adesso invece unendoli a quelli rosa che mangiano tutto Mi mangiano tutto anche loro La cosa positiva di tutto ciò è che se io nutro questi con qualsiasi cosa Loro mi fanno una cacca rosa e una di tabbi Quindi già con un cibo qualunque ho raddoppiato la mia dose di cacca Detta così potrebbe sembrare che io sia stitico E abbia dei problemi comunque Ed è per questo che qua ci sono due assorbitori di cacca Come posso dire, le Plort Collector Sono due, non perché una volta che raggiungete questo Che lo riempite inizia a riempire l'altro Ma perché appunto se fa due cacche diverse Una ve la mette qua e una ve la mette qua Detto ciò Qui ho spostato appunto tutta questa roba I rosa ragazzi piano piano spariranno I rosa qua non ci saranno più prima o poi Questo è perché appunto ho quelli là che mi fanno la cacca rosa Anche se la cacca rosa mi serve Perché la cacca rosa è l'ingrediente principale per il robo alla fabbrica Cioè per il fabbricatore c'è l'ingrediente principale Ho messo questi qua che fanno i tornado qua da soli Proprio incastronati nell'angolino perché non devono dar fastidio a nessuno Questi robi sono micidiali Cioè fanno i tornado e partono Parte tutto, parte Qui ho tolto la pozza di quelli dell'acqua Questo poi vi farò vedere perché Ho tolto i cristalli perché li ho spostati all'esterno Pensavo che essendo tipo dei cristalli magari stessero nelle grotte Ma non ce n'è bisogno Cioè l'unico che sta nella grotta è il fosfor E non so chi altro Forse altri nuovi o comunque alcuni staranno nelle grotte Attualmente i cristalli stanno qua dove c'erano gli onei Qua ho tolto i boom che avete visto li ho spostati dall'altra parte Mentre qui sotto ho messo in questa pozza Che è la pozza naturale Cioè proprio io questa non l'ho costruita C'era la cascata e con sta cosa Gli acqua Perché ragazzi sì gli acqua non scappano Cioè gli acqua non vanno in giro Se vanno in giro muoiono Sarebbero stupiti andare in giro Lo farebbero Cioè io non ci metterei la mano sul fuoco Per me sono abbastanza stupidi da provare a uscire da lì Però mi fido Come vedete qui sotto ci ho messo i radioattivi e i roccia insieme ai rosa E come potete vedere mi fanno appunto due tipi di cacche Quindi ottimo abbiamo unito l'utile al direttevole insomma Tra l'altro quasi a tutti Non a tutti ma gli ho messo il feed l'automatico Dai questo qua che fa in automatico Non ho capito bene come funziona Potete impostarlo in certi modi Cioè del tipo magari nutre più velocemente Cioè nutre più frequentemente Però sinceramente non ho capito bene come funziona il tutto E niente Come avete visto ho fatto un po' di soldi Per cui io direi che possiamo comprare qualcosina Di queste cose Overgroup upgrade Ho speso tutto Niente Sono diventato povero Ah se vi state chiedendo perché per esempio alcuni non li ho mischiati con i rosa Tipo appunto i blue i boom Gli one i crystal quelli radioattivi Non li ho mischiati semplicemente perché attualmente sono quelli che mi danno più soldi E quindi preferisco tenerli singoli che se nutriti col loro cibo preferito vi danno il doppio della cacca Quindi al posto che avere due cacche una rosa e una della loro preferisco prendere due loro Così faccio più soldi essenzialmente Allora ci sono delle cose che vorrei comprare qua Tipo il refinery link Che tipo in teoria a distanza dovrebbe mandar la roba direttamente qua Questo mi serve nella base della principale perché le cacche rosa sono troppe E con troppe cacche rosa poi devo sempre portarle di qua Non c'ho voglia quindi magari me la metto là e faccio prima Il drone che voglio capire bene come funziona E poi soprattutto voglio andare a capire che cosa ci manca Andiamo in esplorazione perché ci mancano altre cose Ah ecco questo robot qua mi chiede la quantum plort Ed è un bordello Allora poi vi spiego cosa è successo con i cosi Volendo possiamo farlo questo eh La Royal Jelly ce l'ho Vi spiego che cosa è successo con i quantum Io ragazzi ci ho provato Ok cioè ci ho provato a metterli Qua vedete che c'ho ancora il limone Purtroppo quei cacchi di quantum slime Non è che dalla descrizione uno legge Ah possono diventare trasparenti e sparire Se non nutriti o annaffiati Cioè io dovevo annaffiarli con l'acqua Io non potevo stare lì sempre ad annaffiarli con l'acqua dai Cioè capite che c'è un tantino un problema Ok allora facciamo intanto un refinery link Tanto penso ne basti uno da mettere là centralmente Così non devo stare a fare avanti e indietro Comunque ragazzi io ci ho provato Ho provato a mettere sto coso Lo metto qua che è bellissimo Vai bello installa qua Tiè così adesso nessuno rompe Io posso sganciare la mia roba tutta qua dentro E andrà direttamente dall'altra parte Perfetto Comunque il problema dei quantum slime Non solo è quello che spariscono Se non nutriti Ma se ne vanno in giro Cioè passano il coral Questo roba qua è inutile Non serve a niente Loro prendono e escono Se ne vanno in giro E poi muoiono Perché spariscono Sono completamente inallevabili Cioè non puoi Non puoi allevarli quei robi È un peccato Perché tipo la loro cacca vale abbastanza Quindi molto probabilmente La cosa che farò Sarà ogni tanto Quando mi capita di andare là da loro Sarà andare a prendere la loro cacca E se riesco a portarla indietro La rivendo O in caso la butto nel market link Perché a quanto pare mi serve anche la loro cacca E quello è un problema Comunque mi porto dietro Questi cosi di roccia La cacca e roccia Perché se vi ricordate bene La scorsa volta Ci siamo lasciati con Una zona da esplorare Il glass desert E nel glass desert C'era un portale A parte A parte quello con le chiavi Che adesso che ci penso Io dovrei portarmi dei polli Perché c'era un gordo Che se ne stava là a girare Per cacchi suoi Che andava nutrito Quindi Mi faccio una cinquantina di polli qua dentro Tanto qua si farmano Che è una bellezza Torniamo dal gordo Lo facciamo esplodere Prendiamo forse la chiave Spero che mi dia una chiave di qualcosa E in più con la cacca rocciosa Che ci abbiamo Proviamo ad aprire quelle statue Io adesso ne ho portate dieci Perché non mi ricordo Quante statue c'erano Però c'erano Eccolo lì Allora Quello lì va nutrito Però va nutrito dal davanti Teoricamente Opa là Ciao piccolino Mi sembra tipo Youtube anch'io No? Mangio il polle A 50 bastavano Ah ma date la chiave però Buono Quello che mi serviva E voilà Rieccoci nel grass desert Ok allora abbiamo Vogliamo andare a fare un pochino di cose Più che altro voglio scoprire Dei nuovi slime Perché io ragazzi Ho già visto Che ci sono degli slime nuovi Lo so Questo perché Quando ho trovato Il tacchino colorato Il pollo colorato Se vado a vedere Nella slime pedia Mi dice che è il preferito Dei tangle slime Degli slime Come si dice Tangle C'hanno Le liane Non so perché Io mi sto immaginando Tipo una roba Come tangela Il pokemon Però non credo Fermi 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 Slime fire Anche questi ci sono raga La scorsa volta C'era il mezzogiorno di fuoco E non si è riuscito a prenderli Adesso li prendiamo Qualcuno lo prendiamo Mi interessava capire Allora innanzitutto La porta La apriamo E vediamo cosa c'è dietro Ma prima Qui E questa è la zona Esatto Andiamo a inserire le cacche Dove è richiesto Non so esattamente Dove è richiesto Cos'è sta roba Ah il robot Ok no È da attivare Me ne manca uno quindi Cioè si attiva quella fontana Cos'è Eccolo 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 Ah solo tre ne servivano Fermi tutti L'abbiamo attivata Oh mio dio Ma sono diventato brillante È acqua super saiyan Cos'è L'acqua sacra di Zelda C'è scritto che ci sono dei posti Che hanno bisogno di Di acqua Cioè di nutrimento Roba del genere Non lo so Ma devo fare qualcosa Che è a tempo Devo sparare l'acqua Su qualcuno E amico mi chiede L'acqua Arca vacca Eeeh Sì Mi chiedeva là Uh uh Questi sono Sono gli slime No cacchio Mi hanno mangiato Ma che sono stupido Anch'io però Smettetela di mangiare Le cacche di quegli altri I mosaic slime Questi ragazzi Valgono un sacco Poi non so cosa mangiano Fammi vedere cosa mangiano Ecco Silver Parnip Un'altra roba Da coltivare Già devo trovare Le prickle pier Per questi dervish Che i dervish Ragazzi La cosa più difficile Dei dervish Non è tanto Il trovargli Un luogo adatto Perché dovete Trovargli un luogo adatto Loro Dato che sennò Vi fanno saltare Tutto il villaggio E robe del genere Ma dargli da mangiare Perché quando gli date Da mangiare Fanno il tornado Parte via anche il mangiare E qua c'è un'altra Di queste cose Ma io l'acqua Non ce l'ho più O in 30 secondi Io devo arrivare lì anche Mi sembra assurda O c'è un'altra fonte No cioè Nel senso Per forza Vorrei capire Come attivare Queste altre zone Perché L'acqua Aspetta Te vuoi in Questa Vuoi il mosaico Sì Diventa un casino Perché vanno trovate Tutte ste fonti E io non le trovo Questa è la strada giusta Ragazzi Stiamo andando Alla zona là Tanto Tanto senza pericolpir Non possiamo fare un cacchio Quindi Sicuramente qualcosa Troveremo Fermi tutti Fermi tutti Tutti Cosa Cosa lancio Cosa tolgo Vi verrò a riprendere Silver snap Questi mi servono Devo far fare la cacca a loro Vai mangia Fammi doppia cacca E poi ti vendo Al posto di A sto punto dei quantum Tanto Non lo so Bene o male Confido nel fatto Che la rifaremo Pricolpir Pricolpir Questa la levo È mia Porca miseria Abbiamo tutto Abbiamo tutto il cibo Nel mentre Io mi piglio Quest'acqua E cerco di capire Anche come tornare su Perché vanno Annaffiate questi Vai Prima che vi mangiate Vicenda Io vi assorbo Boh va bene Non ho capito Come portare a casa Quella Quella terra lì C'è quella Quella acqua strana Sacra Però direi che già Con Con il Pricolpir E la Silver Abbiamo un gran bottino Con il burrito Raga quelli nuovi No 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 Fermi fermi Cacca si stanno già mangiando tutto No Questi sono i Tangle Quelli che Quelli delle liane Che si sono prontamente Mischiati agli altri Perfetto Molto bene Grazie Guardate che qua Ognuno si fa i cacchi suoi Io me ne vado Ho visto che là C'è un'altra cosa Da annaffiare Il mondo ha bisogno di me Allora O lascio i Tangle Slime In giro Li riverrò a prendere Quando Riuscirò A poterli farmare Molto probabilmente Non so Io spero di ritrovarli Da qualche parte Attualmente preferisco Il Pricolpir Per poter farmare Questi Questi Slime Raga io credo Di essermi perso Lo so che Fate fatica a crederlo Ci credo Anch'io poco Però Credo di essermi Perso E Va bene Questo qua Mangia la carne Questo coso Mangia i polli Anche se non riesco A far esplodere Va bene Cioè Voglio tornare a casa Io adesso Depositare tutto Iniziare a farmare la roba I Tangle Li veniamo a prendere Quel robo lì È praticamente morto Quindi la prossima volta Possiamo tornare tranquillamente E farlo esplodere Io adesso voglio tornare a casa Abbiamo da recuperare Volendo anche i Fire Slime Quando Quando riusciamo Adesso Voglio vedere anche Come faccio Ad avere la La cosa L'acqua sacra Infinita Per Annaffiare tutte le osi Perché altrimenti È difficile Cioè Devi trovare il punto In cui c'è la osi E solamente dopo Puoi Sapere dove andare A farmare È un casino Sono contento Va bene Allora Sti Dervish Io li metterei Qua dentro Sperando che non si facciano Volare a vicenda Se ne metto troppi Io non vorrei creare Troppo casino Spero di no Ma tanto sappiamo tutti Che andrà a finire malissimo Soprattutto A dargli il cibo Cioè Io come li do Da mangiare a loro Che non Qui ci mettiamo i mosaici Che mi fanno La loro roba Oh Perché va in fiamme? Oh Raga Mi è diventato una tempesta Sto posto Oh Ah bene Se si agitano Praticamente La loro roba Riflette E crea ste cose Che in teoria Possono essere spente Con l'acqua Calmi Buoni Silenzio State zitti Guarda 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 questi Guarda questi Come fai a nutrirli? Come fai a nutrirli Che ti lanciano la roba in giro? Parte il cibo Parte la cacca Ma guardali Guardali Sono delle scimmie Sti cosi Ragazzi Mi dispiace Ma qua Non potete stare in troppi Sennò succede il borodello Più totale E non venitemi a dire Che non vi avevo avvertito Non venitemelo a dire Va bene Allora Dovrò trovare un modo per tutto A sto punto Un modo per collezionare Tutte quelle loro cacche belle Perché poi le rivendiamo Ci facciamo un sacco di soldi Dato che abbiamo I mosaici Che sono questi Pensavo anche di più Che essero più roba E i dervish Che danno un sacco di roba invece Per il resto Continuerò a farmare Per conto mio Per il momento Io ragazzi Termino qua Quest'episodio Noi ci vediamo Prossima parte Sempre su Slime Rancher Qui dall'Anulf è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti